E' emozionato oppure questo è un sentimento che si provava proprio la primissima volta cinque anni fa? Devo dire forse più emozionato della prima volta, la prima volta forse più incosciente. Oggi un po' più emozionato così come più che altro il giorno della proclamazione direi, anche perché la responsabilità forse ancora più ampia del primo mandato, maggiore consenso del primo mandato da parte dei cittadini di Montepulciano, una scelta che evidentemente ha voluto premiare chi si è proposto con un progetto vero di governo del territorio e chi in cinque anni ha anche dato delle risposte ai cittadini. Questo è stato un giudizio della comunità di Montepulciano sul mio operato e della mia amministrazione, in tutta la Giunta, l'intero Consiglio Comunale. Credo che il fatto che i cittadini abbiano voluto riconfermare in maniera così importante oltre 5.000 voti, 5.078 voti per l'esattezza, il consenso di questa amministrazione è senz'altro un segnale importante, ritengo quindi che senz'altro è di grande responsabilità per il sottoscritto, per i nuovi assessori, per il gruppo consigliare di centro-sinistra per Montepulciano.